La cascina torna all'ASL di Brindisi. L'azienda ospedaliera ha infatti restituito la commessa alla cooperativa finita al centro di un'inchiesta nell'ambito di mafia capitale. L'ASL, che in un primo momento aveva disposto a luglio scorso la decadenza della giudicazione della gara per la gestione e l'accreditamento della RSA di Ostuni, ha revocato tale delibera in autotutela. L'ASL, si legge in una nota della Coop Romana, aveva difeso il suo provvedimento nelle aule del Tar Puglia che qualche settimana fa si era espresso favorevolmente sulla legittimità dell'esclusione. Nonostante la sentenza favorevole, i vertici dell'azienda sanitaria locale di Brindisi, probabilmente dopo aver approfondito i numerosi elementi forriti dal gruppo La Cascina, hanno deliberato la revoca in autotutela. Il provvedimento, prosegue la nota del gruppo, è l'ultimo atto di una lunga serie di disposizioni che stanno contribuendo a restituire serenità al gruppo e ai suoi 7.000 dipendenti e soci lavoratori. Solo la settimana scorsa il direttore generale dell'Università della Magna Grecia di Catanzaro aveva disposto la riattivazione del servizio mensa destinato agli studenti e al personale universitario dopo due mesi di sospensione. Continua così il recupero delle attività e della credibilità del gruppo La Cascina che è e rimane uno dei leader italiani nel settore della ristorazione e dei servizi alla persona.